Buongiorno, sono Pasquale Cannavalo, vi auguro un buon decennale per la scuola calcio Vultus Boiani, anzi che dico, per altri 20 anni. Ciao, un bacione a tutti, arrivederci. Ciao ragazzi, in occasione del decennale della Vultus Boiano faccio questo video per augurare a tutta la squadra di raggiungere i successi che voi da tanto desiderate. Tanti complimenti per i 10 anni, un in bocca al lupo fortissimo. Ciao ragazzi!